Slitta per l'escalation di contagi la ripresa del campionato di Serie C. Ad annunciarlo il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. La nuova data possibile, contagi permettendo, sabato 22 gennaio, quando il Pescara affronterà il Casal Montevarchi, mentre il Teramo sarà di scena a Pesaro. Serie D già interrotta, a causa di ulteriori casi di positività riscontrati in diversi gruppi squadra, il Comitato regionale abruzzese ha deciso di fermare il campionato di eccellenza. Per il momento è in attesa di nuovi controlli, lo stop riguarda solo la giornata. In programma domenica 9 gennaio fermi anche i tornei di eccellenza femminile C1 e C femminile di calcio a 5. Siamo alle notizie di calcio-mercato. Per quanto riguarda il Pescara, finalmente la firma del centrocampista Carlo Derisio, classe 1991, arrivato in prestito secco dal Bari. Ne abbiamo parlato con dovizia di particolari nei giorni scorsi. È stato richiesto ufficialmente dal tecnico Gaetano Oteri, che lo ha allenato lo scorso anno nel Bari, nelle precedenti due stagioni nel Catanzaro. L'imperativo ora, sfoltire la rosa, i casi più spinosi, Valdifiori e Galano. Contratti pesanti sino a giugno, Valdifiori va per i 36 anni, Galano per Galano. C'è un interesse concreto dell'Ascoli, che però non ha affondato il colpo. Piace tantissimo anche Sottil, che lo ha allenato a Pescara nell'ultima parte della stagione 2019-2020. La soluzione potrebbe essere trovata negli ultimissimi giorni di mercato, con un sacrificio economico da parte del club biancazzurro. In uscita, Marilungo, Frascatore, Rizzo, Bocic, probabile la partenza di De Marchi, che è nel mirino dell'Albinoleffe. Già si allenano con la prima squadra, Blanuta e delle Monache. Blanuta classe 2002, delle Monache classe 2005. L'idea è di far crescere Blanuta alle spalle di Ferrari, Beretta e Gori solo su gestioni. In uscita lo stesso Nzita, che nelle ultime quattro gare di campionato ha perso la titolarità, vantaggio di Rasi, per inciso in crescita. Nzita è stimato da Auteri, ma sembra deciso di lasciare Pescara, probabile pista estera, ci sta lavorando naturalmente il suo agente Ferrari. Tra l'altro domani la squadra svolgerà un allenamento congiunto all'appoggio degli Ulivi, a porte chiuse con il Pineto di Marco Pomante, a partire dalle 11. Bisogna considerare anche l'indice di liquidità. Una società infatti può fare acquisti, lo ricordiamo, coprendoli, oppure fare acquisti togliendo contestualmente per pari importo giocatori in carico, altrimenti l'eccedenza va coperta, garantita da fiduzione bancaria. Calcio-mercato Teramo, è ufficiale lo scambio Chiere-Matteng-Mordini, Mordini un terzino sinistro con la Fermana, dal Piacenza torna De Grazia, percorso inverso per Rillo. Dunque, dicevamo, terzino sinistro, Mordini classe 96, ex Feralpi Salò, maestre Re Canatese e Sant'Arcangelo. Nell'ultimo anno e mezzo ha collezionato 49 presenze con la maglia della Fermana, cresciuto nel vivaio del Cesena, con tre presenze da titolare in B, stagione 2017-2018, lanciato dal pescarese Andrea Camplone, poi sostituito da Fabrizio Castori. La formula prestito con diritto di riscatto per entrambi, dunque per Mordini ma anche per Chiere-Matteng. Altresifatta per un altro scambio, questa volta col Piacenza, dal club emiliano torna la mezzala Lorenzo De Grazia, classe 95, già a Teramo nel campionato 2018-2019, 35 presenze e 4 gol, percorso inverso per il fluidificante mancino Francesco Rillo. Indirittura d'arrivo la trattativa con la Salernitana per il prestito del 23enne attaccante e una prima punta, Filippo D'Andrea, che ha cominciato con il neopromosso Seregno, un gol lo scorso anno al Foggia, 6 reti. Trattativa tra l'altro con la Roma per il gioiellino Jacopo Surricchio, classe 2006, 16 anni il prossimo 17 gennaio, due presenze in campionato contro Cesena e Pontedera. Surricchio piace tantissimo al club giallorosso, ma non è stata ancora trovata la quadra, l'intesa sul piano economico.